Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del Tg di prealpina.it. Tragedia della strada questa mattina a Varese. In via Leborri una donna di 83 anni è stata investita e uccisa da un automobile condotta da un anziano. La dinamica è al vaglio della polizia locale, subito a corso sul posto per gestire il traffico. Tra i primi a prestare soccorso alla donna c'è stato un infermiere che si trovava lì di passaggio. Vediamo il servizio di Marco Croci con immagini dell'agenzia Britz. Stava attraversando via Leborri a Varese quando è stata urtata da un'automobile sbalzata con violenza sull'asfalto. La tragedia della strada si è consumata nella tarda mattinata del lunedì 6 dicembre all'altezza dell'incrocio con via Giusti. Qui una Kia Sportage condotta da un anziano è sopraggiunta proprio mentre una donna di 83 anni stava attraversando la strada per recarsi a fare la spesa in uno dei supermercati della zona. L'impatto è stato molto violento tanto che la donna è caduta rovinosamente a terra ad alcuni metri di distanza. Tra i primi a intervenire c'è stato un infermiere che si trovava lì per caso ma la prontezza del professionista e il rapido intervento di ambulanza automedica non sono state sufficienti a salvare la vita alla donna. È morta poco dopo l'arrivo all'ospedale di Circolo. Sulla vicenda indaga la polizia locale. Sono previsti per domani martedì 7 dicembre gli interrogatori di garanzia dei due giovani fermati con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due 22 anni aggredite venerdì sera a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. Tutte e due, un 21enne italiano e un 27enne marocchino, sono al momento in carcere. I carabinieri li hanno individuati in un appartamento a Venegoni inferiore nella notte tra sabato e domenica durante una festa molto rumorosa che ha spinto i vicini a chiamare il 112. Anche in questo caso vediamo il servizio di Marco Croci con immagini dell'agenzia Briz. C'è attesa per l'udienza di convalida del fermo dei due giovani accusati dello stupro di una ragazza di 22 anni venerdì sera a bordo di un treno della tratta Varese Milano e della tentata violenza su una sua coetanea all'interno della stazione di Venegono inferiore. I due, un italiano di 21 anni e un marocchino di 27, fermati sabato notte dai carabinieri della compagnia di Saronno, saranno sentiti dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio già nella mattinata di martedì 7 dicembre. Dinanzi al giudice, che li sentirà per rogatoria e poi invierà gli atti alla procura di Varese, titolare del fascicolo, i due potrebbero decidere di parlare oppure di avvalersi della facoltà di non rispondere. Continuiamo con la cronaca della giornata e spostiamoci in Piemonte. Un uomo di 66 anni residente a Pettenasco è stato investito dall'esplosione di una bombola di gas e ha riportato delle ostioni di terzo grado sul 20% della superficie corporea. Le lesioni più gravi le ha subite alla testa, alle braccia e alle mani. Le leambulanze del 118, alzatosi in volo dalla base di Borgo Siesia e atterrate in un prato della frazione Pratolungo, ha trasportato il ferito al centro traumatologico ortopedico di Torino. L'uomo non è comunque in pericolo di vita. E ora a Saronno, dove nel fine settimana sono stati registrati i raid vandalici ai danni di una dozzina di automobili posteggiati in via Antici e in via Tommaseo, in centro città, ma anche in via Boccaccio a Cascina Colombara. Facile pensare che gli autori del gesto teppistico siano sempre gli stessi, con un sasso oppure con un martello, hanno rotto i finestrini, generalmente quello del lato passeggeri, dei veliconi in sosta, senza badare a modello caratteristiche dell'auto. L'impressione è quella che la scelta sia del tutto casuale. In alcuni casi l'abitacolo viene poi passato al setaccio in cerca di monetine o qualche oggetto in qualche frangente sono stati rubati anche pacchetti di caramelle e gomme da masticare. A chiudere le previsioni del tempo, la neve sta arrivando. Per dopodomani, giorno dell'immacolata, il centro geofisico prealpino prevede cero coperto e nevicate fini in pianura, anche abbondanti, sulla fascia prealpina. Il freddo morderà già questa notte per intensificarsi in quella successiva con temperature che scenderanno fino a 4 gradi sotto lo zero. Palazzo Estense ha già annunciato che a partire da domani sera mezzi del Comune di Varese effettueranno la salatura preventiva delle strade cittadine. Camioni e trattori, dotate anche di lama spazzaneve, saranno pronti in base all'evolversi della situazione. E per questa edizione è tutto. L'appuntamento con il Tg di prealpina.it è per domani alle 13. Una buona serata.